No 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 no, no, no lo vediamo Facciamo una ripresa, facciamo una ripresa zoomata parlava via guarda io ti ammazzerò e poi guarda 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 ma scusa sono bello come stai vedendo a me stai vedendo un'altra stai vedendo un'altra ma Gesù vedi che fisico ci ma non sta girando ma non sta girando ma non sta girando ma non sta girando guarda come èνacca tu pare brutto tu pare brutto si è fria gatto Gian Domingo un uomo io le coi tre ai tuoi amici è una cosa finire il mio per cosa arrivi a tu lei e vi bocca e come ti è acquistato avanti che nascerà noi sentiamo del mondo una macchina una macchina una macchina una macchina una macchina una macchina che è la macchina uno ieri e chi ha riposo E' un po' di tempo. E' un po' di tempo. E' un po' di tempo. Facciano prima di andare a farlo. Cosa è un po' di tempo. Cosa è un po' di tempo. A sette di vicino al media. E un po' qua, a sette di vicino al media. Maestro, che sto spiegando al media. Maestro! Ma come grazie, guarda com'è serio. Guarda com'è, guarda com'è, guarda com'è. Ma hai una ripresa con Gioci! ... Ma hai preso con Gioci? Faccio vedere. Aspetta, aspetta! Fai una ripresa qua, le scarte. Ma se qua le portavano a bonare, le anche se loro. Gioci! Ah 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 ah! Chiesa. Allora il registra è... Oh, per... Grazie a tutti. 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 a tutti. grazie a tutti. a tutti. grazie 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 a tutti.